Con l'avento dei social è cambiato così tanto il modo di comunicare delle pubbliche amministrazioni? Sicuramente i social sono uno strumento che prima non esisteva e che ci permette di arrivare ai cittadini, a noi come sistema camerale, alle imprese direttamente. Quindi è cambiato sì perché c'è una interazione più diretta con l'utente dell'informazione. È difficile adattarsi per una pubblica amministrazione al linguaggio dei social? Ma è difficile perché è un linguaggio molto immediato e diretto e quindi occorre una prontezza e quindi gli uffici stampa devono adeguarsi all'evento di queste nuove macchine importanti per poter comunicare. È importante anche saper gestire questo flusso di comunicazione perché è una comunicazione nei due sensi e quindi possono esserci degli utenti che così veicolano dei messaggi magari un po' scomodi o comunque scorretti. Assolutamente. Verificare le informazioni e le risposte che arrivano attraverso i social è un mestiere difficile e che richiede molto tempo ma è fondamentale perché è la libertà di tutti di rispondere a pubblica amministrazione su quello che si dice. Questo vuol dire che ci sono dei comunicatori che a regimi devono specializzarsi e fare solo più i social praticamente? Ma la base di partenza è comunque la comunicazione, i social è uno strumento, se uno non ha la base non può utilizzare i social. Grazie.